un augurio di cuore a tutti i miei concittadini ce n'è veramente bisogno in questo natale lasciamoci alle spalle anche i momenti di tristezza i momenti di fatica ma accogliamo veramente con gioia il segno del natale e quindi per tutti un momento di serenità e un momento di speranza con affetto veramente sincero da parte mia da parte di tutta la città di noale